e quindi si fraziona in una situazione molto difficile da prevedere, il scanner di pochi centinaia di metri è veramente un gran tavolo del scientifico su cui non dovremmo conflittare. Grazie, grazie per essere stato con noi, grazie a Vincenzo Artale. Noi continuiamo ad occuparci della Luglione in Sardegna con il Ministero dell'Istituzione che ha attivato in questo istante una task force per far fronte alle conseguenze della Luglione. Domani quindi il nuovo offer del MIUR sarà a Cagliari da mezzogiorno per una riunione con l'ufficio scolastico regionale. Si dovrà effettuare una ricognizione per verificare la situazione degli istituti scolastici in modo da almeno fare un piano di intervento immediato.